Avete un'amica che qualunque straccetto indossi è sempre e comunque lo straccetto giusto? Siete a corto di buoni consigli e avete bisogno di una guida per attraversare il magico mondo dell'indispensabile superfluo? E se questa guida fossi io? Per uno stile oltre la moda. Per consigli, dritte, suggerimenti ed indirizzi giusti. Per organizzare la propria libertà. Per tutto questo c'è Cicas. Cicas, questa sera alle 23.15 su Fox.